segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te noi ci siamo incontrati la prima volta perché abbiamo invitato qui bandecchi perché parlando di sicurezza il sindaco bandecchi che per certi aspetti ci ricorda un po una specie di trump in salsa e si lei sorride adesso raccontiamo perché in salsa nostrana è stato eletto sindaco di terni il 19 5 2023 è un personaggio di cui si è parlato molto quest'estate ma non solo un bel patrimonio personale una bella inchiesta per evasione fiscale se non ricordo male inchiesta per evasione fiscale ancora in corso con beni confiscati per 20 milioni di euro cioè questo signore qua so che adesso impallino tutte le luci le agli hanno sequestrato 20 milioni di e lei ride ma io ho visto che l'indagine fiscale è iniziata e ho il documento con la data venerdì scorso i soldi li hanno sequestrati un anno fa vedi ci sarà da ridere io non dormire la notte per 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 500 euro 20 milioni di euro ma ha fatto di più bandecchi ma vediamo in questo servizio riepiloghiamo un po perché oggi lo abbiamo invitato perché è il caso del momento vai regia